Boom di contagi da covid in provincia dove in poche ore si sono accumulati 155 nuovi casi, 40 dei quali nella sola ribera, dove adesso i numeri fanno letteralmente paura e si teme la zona arancione. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva. Situazione di allarme anche a Sciacca dove ci sono stati altri 13 casi che hanno fatto aumentare il numero complessivo di persone tuttora contagiate a una cinquantina. Appena tre le guarigioni, casi in aumento anche a Cattolica Araclea. Regalo di Natale dal governo Draghi nei confronti dei comuni siciliani in difficoltà finanziarie. A Sciacca arrivano 670 mila euro. Una buona notizia ma che allevia solamente una situazione che resta particolarmente complessa. Il comune di Sciacca ha deciso di presentare ricorso al TAR contro i contenuti del piano paesaggistico. Francesca Valenti e l'assessore Fabio Leonte parlano di scelta politica, operazione che andava fatta entro il 27 dicembre. Acqua pubblica, il sindaco di Agrigento Franco Miccichea all'attacco dell'azienda speciale consortile. La gestione di AICA, definita dal primo cittadino un'eredità della precedente amministrazione, viene definita insoddisfacente. Concerti di Natale nelle scuole di indirizzo musicale di Sciacca, sia all'Inveges sia al comprensivo Mariano Rossi. In centro storico, novena itinerante in chiave jazz e alla chiesa del collegio, i canti della novena antica. Ben ritrovati a una nuova edizione di RMK Notizie. Boom di contagi da Covid in provincia di Agrigento, con 155 nuovi casi nelle ultime ore e altri due ricoveri, entrambi in terapia intensiva. Fanno paura i numeri del contagio a Ribera, dove una quarantina di nuovi positivi hanno fatto schizzare a 118 il totale dei contagiati. Anche Sciacca peggiora la situazione. Sono 49, adesso i soggetti positivi al Covid, 10 in più rispetto al precedente bollettino. Sentiamo Noemi Tummiolo. Sono 155 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati ieri in provincia di Agrigento, 70 le persone guarite e 2 i nuovi ricoveri, entrambi in terapia intensiva, dove adesso i posti letto occupati sono 7. 28 le persone in degenza ordinaria e subintensiva al Fratelli Parlapiano di Ribera, 2 a San Giovanni di Dio di Agrigento, un agrigentino si trova presso un Covid hotel fuori provincia, per un totale di 38 persone ospedalizzate, mentre sono diventati 1.203 i soggetti che si trovano in isolamento domiciliare. Peggiora dunque la situazione in provincia e a fare paura sono soprattutto i numeri dei contagi a Ribera, 40 in più rispetto al precedente bollettino dell'ASPE e adesso sono 118 i riberesi positivi al Covid. Non va meglio nella città di Sciacca, dove i positivi al Covid da 39 sono saliti a 49, ma in realtà ci sono state anche 3 guarigioni e questo vuol dire che i nuovi casi in città sono stati 13. 25 i casi a Real Monte, 10 a San Buca di Sicilia, 51 a San Giovanni Gemini, 5 meno, 3 a Sant'Angelo Muxaro, 26 a Sant'Elisabetta, 3 in più, 7 a Santa Margherita Belice, 9 a Siculiana, 4 meno, un caso a Villafranca Sicula. 4 nuovi casi ad Agrigento portano a 142 il totale dei contagiati nella città dei Templi, 2 ai positivi al Covid da Alessandria della Rocca, 11 ad Aragona, 5 nuovi casi a Bivona per un totale di 9, 4 nuovi casi a Burgio che sale a 6, 9 i contagiati a Calamonaci, 4 a Camastra, 63 a Camarata, 61 a Campobello di Licata, 4 in più, 119 a Canicattì, 7 meno, 23 a Casteltermini. Resta preoccupante la situazione nel comune zona arancione di Castrofilippo con altri 8 contagi per un totale di 153. Non va meglio a Cattolica Eraclea, anche qui la curva dell'epidemia continua a salire con altri 9 casi per un totale adesso di 65. 2 a Cianciana, 5 a Comitini, 67 a Favara, 4 a Grotte Ioppolo Giancaxio, 48 a Licata, 12 a Luccasicula, 3 in più, 9 a Menfi, 3 a Montevago, 20 a Naro, 9 a Palma di Montechiaro, 29 ai casi a Porto Empedocle, 4 in più, 5 a Racalmuto, 20 a Raffadali, 4 in più, 37 a Ravanusa, 3 in più. E a Ribera il sindaco Ruvolo definisce preoccupante la situazione per la quale non si esclude che possano scattare provvedimenti irrestrittivi nei prossimi giorni se i contagi dovessero aumentare ancora. Il rischio è che Ribera diventi zona arancione. Maria Genuardi. Preoccupano un po' con la diffusione del coronavirus a Ribera, dove si registra una nuova e sostenuta crescita dei contagi anche a seguito delle iniziative intraprese, a cominciare dallo screening sulla popolazione scolastica. Il totale degli attuali positivi è schizzato a 118, secondo quanto si evince dal bollettino dell'azienda sanitaria provinciale, ma il timore è che il dato sia anche destinato ad aumentare nei prossimi giorni. Non a caso il sindaco Matteo Ruvolo non esclude, visto l'aumentare dei contagi e il periodo festivo imminente, con gli ovvi rischi connessi, che possano scattare nei prossimi giorni eventuali misure restrittive. Significa che Ribera rischia di diventare zona arancione. Un'impennata di contagi che si registra dalla metà del mese di novembre e che ricorda la dinamica dell'inizio dell'anno, ossia il periodo di maggiore criticità per la città crispina. In meno di una settimana poi il virus si è diffuso anche all'interno della scuola, tanto che da lunedì scorso tutte le attività didattiche in presenza sono state sospese a titolo precauzionale ed è partita la campagna di screening su alcuni alunni dell'Istituto Superiore Crispi, su classi degli istituti comprensivi Crispi e Don Bosco Navarro. Sono emersi diversi casi di positività al test rapido e si attende l'esito dei tamponi molecolari. Dall'analisi dei dati suddivisi per età emerge comunque che la crescita dei contagi a Ribera è diffusa in maniera omogenea e non concentrata solo sui minorenni. Non è solo un problema di scuole quindi. Ovviamente si sta tentando di prevenire a titolo precauzionale, d'accordo con l'amministrazione comunale, l'Istituto Toscanini ad esempio ha annullato il concerto di Natale previsto per oggi, mentre per le altre manifestazioni natalizie si proseguirà valutando di volta in volta l'opportunità o meno di rinviarle in base al tipo di evento e gli eventuali rischi connessi. La situazione richiede attenzione e senso di responsabilità da parte di tutti, dichiara oggi il sindaco Matteo Ruvolo. Significa ad esempio utilizzare sempre le mascherine anche all'aperto, evitare i luoghi affollati e mantenere il distanziamento sociale in questi giorni di festa, anche se vaccinati con due o tre dosi. Ovviamente chi non è vaccinato rischia ancora di più. Intanto si attende una verifica della situazione degli attuali contagiati da parte del competente Dipartimento dell'Asp per capire se e quando potrebbero scattare eventuali restrizioni. Cambiamo argomento. Accreditati quasi a sorpresa al comune di Sciacca 670 mila euro. Fondi statali destinate ai comuni siciliani in crisi finanziaria, e con disavanzi consistenti. Un finanziamento che fa tirare un sospiro di sollievo. Ce ne parla Massimo D'Antoni. Ogni tanto anche a Sciacca arriva una notizia positiva. È quella riferita all'accreditamento quasi a sorpresa effettuato dal governo centrale nei confronti dei comuni siciliani in crisi finanziaria o con importanti disavanzi di bilancio. Un finanziamento consistente di 150 milioni di euro che potrebbe essere un fondo pericotivo aggiuntivo dopo gli stanziamenti per fronteggiare l'emergenza Covid. La parte del Leone naturalmente l'hanno fatta i comuni metropolitani a partire da Palermo che ha ricevuto 44 milioni, ossia il 30% circa, dei finanziamenti erogati. Per il comune di Sciacca sono stati stanziati 670 mila euro. Un finanziamento effettuato dal governo dopo aver esaminato i singoli rendiconti senza richiederli in visione agli uffici dei singoli comuni ma attraverso un'azione diretta. Si sa peraltro che a Sciacca la situazione finanziaria è assai complicata. Intanto il commissario Pietro Valenti con i poteri sostitutivi del Consiglio Comunale nei giorni scorsi aveva approvato il bilancio di previsione licenziato precedentemente dall'amministrazione Valenti dando anche il via libera al PEG, ovvero sia il piano economico di gestione. Questi accreditamenti straordinari approvate evidentemente a Roma dopo le recenti proteste dei sindaci che non hanno esitato a volare nella capitale per far sentire la loro voce attraverso la rappresentanza del Lanci permettono di guardare con maggiore fiducia al futuro. Ovviamente non bisogna certamente aspettarsi miracoli. Ricordiamo che ammonta 2 milioni e 200 mila euro il disavanzo accertato e calato all'interno del consuntivo 2020 che va ripianato in tre anni. Questo accreditamento straordinario permette probabilmente di recuperarne almeno uno. A generare questa condizione sono stati soprattutto i crediti di dubbi e esigibilità quelli che fanno parte a tutti gli effetti di quel fondo residui attivi che vedono il Comune di Sciacca accreditore di almeno 21 milioni di euro soldi che il Comune non riesce ad incassare e che fanno aumentare ogni anno questo singolo capitolo Comune di Sciacca che peraltro da due anni è strutturalmente deficitario. Il Comune di Sciacca ricorrerà al TAR contro i contenuti del piano paesaggistico decisione assunta da Francesca Valenti e dall'assessore all'urbanistica Fabio Leonte soddisfazione da parte dell'architetto Ignazio Gallo presidente del Circolo Marina San Michele di Fratelli d'Italia. C'è il servizio. L'amministrazione comunale dunque ha presentato l'atteso ricorso al TAR contro il piano paesaggistico provinciale di Agrigento naturalmente per la parte riferita alla città di Sciacca. Una decisione assunta prima della scadenza ultima che era possibile osservare ovvero sia quella del 27 dicembre. Il sindaco Francesca Valenti e l'assessore all'urbanistica Fabio Leonte hanno dato specifiche direttive all'ufficio legale del Comune. Lo hanno fatto dopo avere condiviso le osservazioni degli ordini dei collegi di agronomi, architetti, geologi, geometri, periti agrari e ingegneri con i quali nei giorni scorsi al Comune c'era stato quello che viene definito un proficuo confronto. La decisione di presentare questo ricorso viene considerata dall'amministrazione una scelta politica fatta con piena convinzione. Dall'analisi del piano, si legge in un comunicato stampa, emergono delle criticità che possono avere effetti negativi sullo sviluppo economico e rischiano di pregiudicare la vocazione del territorio. Piano paesaggistico per il quale l'amministrazione parla comunque di strumento importante per salvaguardare e tutelare il territorio seccenze. Malgrado questo, tuttavia, evidentemente è necessario intervenire. Già negli anni scorsi, interpellata da diversi comuni, la giustizia amministrativa aveva pronunciato sentenze che avevano messo in evidenza una contraddittorietà oggettiva tra questo strumento e il piano regolatore. La questione a Sciacca è stata evidenziata più volte, tecnicamente ma evidentemente anche politicamente, dal presidente del circolo Marina San Michele di Fratelli d'Italia, Ignazio Gallo, che proprio nei giorni scorsi aveva messo in guardia proprio rispetto al pericolo che non si facesse in tempo a presentare il ricorso al TAR. Architetto Gallo, intanto è soddisfatto della decisione dell'amministrazione di presentare questo ricorso al TAR? Sì, prendiamo atto dell'impegno che ha assunto l'amministrazione e speriamo che oltre all'impegno di portare avanti questo ricorso ci sia in questi giorni un supporto all'ufficio legale che ha pochi giorni per poter rappresentare entro le 27 il ricorso. Piano paesaggistico che impedisce, secondo l'architetto Gallo, uno sviluppo turistico che era stato a suo tempo programmato. Brevemente, in che cosa il piano paesaggistico impedisce lo sviluppo dal vostro punto di vista? Praticamente va a incidere su tutte quelle aree che inizialmente erano considerate turistico alberghiere o di sviluppo turistico in genere oltre a quelle residenziali private, dove fino a ieri i proprietari hanno pagato l'Imo per quella destinazione. Con questo nuovo intervento da parte dell'assessorato e quindi nel caso della sovrintendenza ha imposto tutta una serie di vincoli riconducendoli come le zone verde agricolo. Quindi oltre a impedire la programmazione già fuori dagli anni 70 è anche un danno irraiale in termini di incassi e immaginate l'Imo che si riduce sensibilmente su questo, facendo due conti su questi aspetti. Rifiuti raccolta regolare dell'umido sabato 25 dicembre a Sciacca nonostante coincida con il giorno di Natale. A darne notizia sono le ditte SEA e Bono che gestiscono il servizio. Domenica 26 dicembre il servizio di raccolta riguarderà invece esclusivamente le attività commerciali. Ci sono anche Sciacca e Ribera tra i comuni ricicloni che nel 2020 hanno raggiunto e superato il 65% di differenziata ma fanno benissimo anche Calamonaci, Villa Franca, Lucca Sicula e Sambuca di Sicilia. Nella classifica dei primi 10 comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e 50.000 abitanti c'è Ribera al primo posto con il 73,12% e la città di Sciacca al sesto posto con il 68,87%. Ne parliamo nel servizio. Sono 170 i comuni ricicloni in Sicilia che nel 2020 hanno raggiunto e superato il 65% di raccolta differenziata e 33 i comuni rifiuti free. Quelli cioè con una produzione di rifiuti indifferenziati minore a 75 kg per abitante. E' quanto viene fuori dal dossier Comuni ricicloni della Sicilia di Lega Ambiente presentato a Palermo. Una pubblicazione che racconta un'isola che pare stia finalmente cambiando nella gestione virtuosa dei rifiuti. E' un risultato importante dichiara Tommaso Castronovo responsabile rifiuti ed economia circolare di Lega Ambiente Sicilia perché riguarda il 43% dei comuni siciliani, circa un milione e mezzo di cittadini. Quando è iniziato il progetto Sicilia-Munnizza Free nel 2017, i comuni che avevano superato il 65% erano solo 33. La città di Sciacca rientra nell'elenco dei comuni ricicloni, quelli cioè che hanno superato il 65% di rifferenziata. Viaggiano a gonfie vele anche i comuni di Villa Franca Sicula, Calamonaci, Lucca Sicula, Ribera e Sambuca di Sicilia. Nella classifica dei comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 50.000 abitanti, al primo posto c'è Ribera con il 73,12% di differenziata e al sesto posto la città di Sciacca con il 68,87. Nella classifica dei comuni ricicloni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, al secondo posto c'è Calamonaci con il 90,61, al terzo Villa Franca Sicula con il 90,04 e al settimo Lucca Sicula con l'83,84. Infine nella top 10 dei comuni ricicloni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, all'ottavo posto c'è Sambuca di Sicilia con il 77,96. La città di Agrigento è prima nella classifica dei capoluoghi di provincia con la maggiore percentuale di raccolta differenziata. I comuni ricicloni siciliani aumentano ma c'è ancora molto da fare, sottolineano da Lega Ambiente. Nel corso della presentazione del dossier è stato anche consegnato il premio Comuni ricicloni e comuni rifiuti free alle migliori performance raggiunte dai comuni nella raccolta differenziata e per la minore produzione di rifiuti indifferenziati e riconoscimento di menzioni speciali ai comuni e alle aziende che si sono distinte nelle buone pratiche della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare. La gestione AICA per nulla soddisfacente così il sindaco di Agrigento Miciche che ha tenuto peraltro a sottolineare di avere subito la società consortile. Dichiarazioni quelle del sindaco del comune capoluogo della provincia destinate ad alimentare nuove polemiche nell'ambito della nuova gestione del servizio idrico in provincia di Agrigento. Sentiamo. Sono passati quattro mesi dall'avvio della gestione AICA del servizio idrico integrato in provincia di Agrigento e mentre i vertici della nuova azienda sono alle prese con una situazione economica difficilissima si apre il fronte delle contestazioni in relazione al servizio che viene garantito alla popolazione fatta eccezione per gli otto comuni della provincia che hanno ottenuto l'autorizzazione a continuare la gestione in house. Ci sono evidenti criticità legate soprattutto alle mancate manutenzioni alle reti idriche e fognarie. La città di Sciacca è un esempio evidente. Sono stati effettuati gli interventi di riparazione ma solo per alcune perdite quelle che generavano poi disservizi nell'erogazione con intere zone della città rimasta secco per diverse settimane. Una goccia in un mare d'acqua giusto per rimanere in tema posto che sono tantissime le perdite alle quali non si è posto ancora rimedio per non dire che anche i turni di erogazione a Sciacca si sono allungati rispetto alla gestione commissariale ma quel che ha denti stretti è comunque da rilevare anche rispetto alla stessa Girgenti Acque. Oggi la mentele arrivano dalla via Puglia zona di via Cappuccini dove l'ultima erogazione è avvenuta lunedì scorso e solo per mezz'ora. Oggi attendevano l'approvvigionamento e invece sono rimasti senza acqua e senza la possibilità di ricevere telefonicamente notizie sul prossimo turno di erogazione. Solo un esempio. Eppure dai sindaci agrigentini si continua a invocare tolleranza verso la nuova gestione, quella pubblica della quale fanno parte i comuni. Non tutti i sindaci in realtà tra le voci fuori dal coro quella di Franco Miccichè sindaco di Agrigento che non perde l'occasione per ribadire tra l'altro di avere ereditato e quindi subito l'azienda consortile. Avevo già anticipato che dovevo incontrare i vertici del laica che ho fatto puntualmente. Non sono assolutamente però soddisfatto delle informazioni e di quello che è uscito fuori. Ho rappresentato le serie criticità che ci sono nella mia città e nella nostra città. purtroppo la consortile che io mi sono trovato e quindi l'eredità che ho ricevuto non è una delle migliori soluzioni per quanto riguarda proprio questa tipologia di servizio. Allora dovete sapere che in una società consortile ogni sindaco rappresenta un voto. Le decisioni vengono prese dal Consiglio di Amministrazione. Quindi chiederò di essere audito al più presto dallo stesso Consiglio di Amministrazione affinché tutte le criticità che ci sono ad Agrigento sia per quanto riguarda la distribuzione idrica sia per quanto riguarda le rotture e tutti gli inconvenienti che vanno sorgendo giorno dopo giorno vengano ripristinati e debellati definitivamente. Voglio però dire ai miei concittadini non voglio dare delle false aspettative. La situazione non è per nulla rosa. Dichiarazioni quelle del sindaco di Agrigento destinata ad alimentare le polemiche mai sopite sulla questione acqua nella provincia in cui tutti i sindaci fanno parte del Lati ma poi ci sono comuni che dipendono da Aica e altri che gestiscono direttamente le proprie risorse. Quasi 300 persone arrestate e oltre 10 milioni di euro di beni sequestrati. Questo è il bilancio della Direzione Investigativa Antimafia al termine del progetto Onnet che si è sviluppato tra Italia ed Europa. Particolare attenzione è stata posta verso la Sicilia alla ricerca del latitante Matteo Messina Terano e dei suoi affiliati. Calogero Parla Piano 283 criminali arrestati, 9 organizzazioni mafia style smantellate, oltre 10 milioni di euro sequestrati, 55 indagini transnazionali e 171 missioni all'estero con l'adesione di 29 forze di polizia in rappresentanza di 24 paesi diversi. Questi numeri è il bilancio conclusivo della Direzione Investigativa Antimafia nell'ambito del progetto denominato Onnet. Lo scopo di questo progetto e il lavoro interforze è stato quello di rafforzare la cooperazione transnazionale delle agenzie di polizia partner ai fini del sequestro e della confisca dei beni illecitamente accumulati nei confronti dei principali gruppi criminali italiani di stampo mafioso, nonché di quelle emergenti di etnia albanese, nigeriana, cinese e di lingua russa. Oltre ai gruppi mafiosi, particolare attenzione è stata riposta verso il traffico internazionale di stupefacenti e l'attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita. DIA, impegnata in Sicilia, sempre verso la ricerca del latitante Matteo Messina Denaro e dei suoi affiliati. Come si suol dire, si sta cercando da anni di stringere il cerchio attorno al capomafia di Castelvetrano che dal 1993 sfugge alla cattura per svariati motivi. Il progetto internazionale e la rete interforze proseguirà il proprio lavoro anche per gli anni 2022 e 2023 avendo ottenuto un ulteriore finanziamento di 2 milioni di euro. Il meeting finale in videoconferenza è seguito alla conferenza operativa sul tema Il contrasto alle organizzazioni criminali di alto livello e mafia style sfide per le forze di polizia e le autorità giudiziarie che si è svolta a Palermo qualche settimana fa. Voltiamo pagina. Si è tenuto ieri all'istituto comprensivo Mariano Rossi ad indirizzo musicale il concerto di Natale che è stato ripreso integralmente dalla nostra emittente e che andrà in onda in questi giorni. Sentiamo. È stato un concerto di Natale che ha evidenziato l'importante preparazione già acquisita dagli studenti quello che si è tenuto ieri all'istituto comprensivo Mariano Rossi di Sciacca ad esibirsi l'orchestra e il coro della scuola giunto al quinto anno di riconoscimento dell'indirizzo musicale con i corsi di clarinetto chitarra pianoforte e violino ad esibirsi un centinaio di alunni tra orchestra e coro con la rispettiva direzione di Gaspare Faggio e Caterina Buffano che insieme a Dario Barbaria e Alessandro Ferraro compongono il gruppo docenti di strumento musicale dell'istituto. Il concerto è giunto al culmine di un progetto di continuità fra i due segmenti scolastici denominato Dore e Mi un universo da scoprire mirato ad avvicinare allo studio della musica i bambini fin dall'età più giovane. Il concerto di Natale alla Rossi è ormai diventato un momento di condivisione importante per tutta la scuola e per le persone a casa nel pieno rispetto delle regole anticontagio infatti già da alcuni anni il concerto viene eseguito dagli alunni sistematico il dovuto distanziamento nella grande palestra della scuola i bambini cantano con la mascherina indossata e cosa di maggiore orgoglio la performance canore musicale viene trasmessa in diretta streaming sui canali social dell'istituto dando ai familiari degli alunni e chi è a casa l'opportunità di godere della bellissima musica comodamente a distanza ma quest'anno il concerto è stato anche ripreso dalle telecamere della nostra emittente e verrà trasmesso in questi giorni di Natale. Un appello ragazzi voi che siete già il nostro futuro come oggi continuate a mettere passione in tutto quello che fate in questo momento soprattutto nello studio nello studio in questo caso dello strumento musicale ma anche nello studio di tutte le altre discipline quindi ragazzi non perdete mai questa vostra grande gioia questa gioia di vivere perché nella nostra scuola è proprio questo quello che si trasmette la gioia di stare bene insieme concerto di Natale anche alla scuola media indirizzo musicale Agostino Enveges di Schac l'ensemble composto dagli studenti che seguono i corsi di chitarra clarinetto violino e pianoforte hanno proposto una decina di brani tra i più noti della tradizione natalizia ascoltiamo alcuni estratti nel servizio concerto di Natale dell'ensemble della scuola media Agostino Enveges di Schac Jingle Bells Rock è uno dei brani più noti della tradizione natalizia interpretato dai giovani studenti dell'istituto ad indirizzo musicale messe così in pratica le lezioni individuali e di musica d'insieme curate dagli insegnanti di strumento delle classi di clarinetto violino pianoforte e chitarra ricorrenze come quelle del Natale servono a creare unione e a portare gioia ma anche per mettersi alla prova e confrontarsi con un pubblico seppur virtuale diverso da quello in presenza la pandemia continua infatti ad imporre dei limiti del rispettare sarà un Natale diverso ancora una volta ha commentato il dirigente Mariangela Croce ma non per questo meno speciale degli altri che sia un Natale di rinascita e che il nuovo anno possa rendere nuovamente la libertà al mondo questo l'augurio del dirigente ancora musiche e tradizioni del Natale nel centro storico di Sciacca nell'ambito delle iniziative promosse dal comune oggi protagoniste le antiche novene per le vie principali del cuore cittadino che ricordiamo il pomeriggio dalle 16.30 alle 20.30 sarà chiusa al transito veicolare a partire dalle 17.30 novena itinerante in chiave jazz a cura della Dixieland Band alla chiesa del collegio invece alle ore 19 verranno proposti i conti e i canti di novena nella Sicilia antica spettacolo che l'associazione fare musica sta portando in giro per i comuni siciliani frutto di una ricerca sulle tradizioni culturali delle novene nell'isola lo spettacolo proposto assume l'aspetto di una vera e propria liturgia grazie alla teatralità della rappresentazione e alla capacità di coinvolgimento spirituale che si realizzano attraverso racconti in rima e canti tradizionali e adesso la rubrica il libro del giorno quando una donna viene trovata morta in una cassa di legno con un nel corpo trafitto da spade la polizia di Stoccolma è frastornata difficile capire se si tratti di un gioco di prestigio finito in tragedia o di un macabro rituale omicida le indagini vengono affidate ad una squadra speciale un gruppo eterogeneo di agenti scelti e allergici alle procedure istituzionali tra i quali spicca per doti investigative Mina Dabiri proprio Mina suggerisce di coinvolgere nel caso Vincent Walder un famoso mentalista profondo conoscitore del linguaggio del corpo e del mondo dell'illusionismo insieme si mettono sulle tracce del killer ma la personalità di entrambi segnata da piccole e grandi ossessioni e da segreti inconfessabili ingarbuglia la caccia anche perché il loro stesso passato si rivela connesso in modo inquietante al caso è prima che la situazione precipiti l'unica arma a disposizione dei due investigatori per impedire all'assassinio di uccidere ancora è anticipare le sue mosse solo comprendendo a fondo la sua follia infatti potranno mettervi fine il codice dell'illusionista di Camilla Lackenberg ed Eric Fexeus edito Marsilio siamo allo sport Irene Marturano e Andrea Danna della Ippon Karate Lentini sono stati premiati dal comune di Ribera per gli ottimi risultati ottenuti nel corso della stagione agonistica 2021 la premiazione che si è tenuta in aula consigliare è rientrata nell'ambito della manifestazione denominata Giovani Campioni Riberesi vediamo il comune di Ribera ha premiato gli sportivi crispini che si sono particolarmente distinti dal punto di vista agonistico durante l'anno 2021 nell'ambito di una manifestazione denominata Giovani Campioni Riberesi tra questi gli atleti della società Ippon Karate Lentini di Sciacca capitanata dai tecnici Pietro e Marco Lentini l'iniziativa che si è svolta all'interno dell'aula consigliare di Ribera ha permesso la premiazione del Sodalizio Saccense per il riconoscimento di aver forgiato in questi anni tanti campioni che hanno portato e continuano a portare lustro nei comuni in cui opera i premi intitolati Giovani Campioni Riberesi per meriti sportivi sono stati ottenuti da Irene Marturano e Andrea Danna per i risultati conquistati in campo nazionale con la federazione ufficiale Filcam l'unica riconosciuta dal CONI e in campo internazionale con la federazione WKF World Karate Federation tra i risultati più importanti del 2021 per la Ippon Lentini la convocazione di tre propri atleti nella nazionale italiana giovanile di Kumite Marturano Colletti e Propizio che hanno difeso recentemente la maglia azzurra alla Youth League di Esolo nonché le prestigiose e medagliate trasferte estere a Tampere in Finlandia con gli europei ma anche a Porez in Croazia e poi Austria e Spagna oltre alle frequenti e tradizionali trasferte al Palla per l'Icone di Ostialido per i vari campionati di carattere nazionale e con questo è tutto grazie come sempre per l'attenzione appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti a tutti grazie a tutti Autore dei sovrapposti